Che gara ragazzi allo Speroni! Alla fine il pareggio per 1-1 fra Propatre e Provercelli nel posticipo della 25esima giornata di Lega Pro di seconda divisione è giunto al termine di una partita che ha visto i Tigrotti giocare meglio la prima mezz'ora della frazione di gioco e i Leoni di Bragging emergere nella parte finale del tempo e nei primi 20 minuti della ripresa. Due gol di pregevole fattura, di Serafini e di Malatesta hanno determinato lo score. Al 27esimo del primo tempo un'azione fluidificante sull'audi sinistra da parte di Dell'Acqua culmina con un traversone per la testa di Serafini. L'attaccante mette in mostra il suo pezzo forte, supera in anticipo Labriola e per i Tigrotti è il vantaggio. La Provercelli non ci sta ed esce, punta sull'orgoglio cacciando nella propria difesa bianco-blu di Novelli i padroni di casa che rischiano di subire il pari con un corner alla Pelè di Bonomi e con un Santoni che sarebbe anche in stato di grazia se non fosse per l'assenza di precisione. La ripresa inizia con lo stesso copione, bianche casacche all'assalto e il pareggio arriva quasi subito al quinto. Grazie ad una prodezza di Malatesta che ha ricevuto a palla al limite dell'area da un rosso strepitoso, spalle alla porta si torce e fulmina Andreoletti sul palo alla sinistra del portiere. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Bragging continua a premere sfiorando il ribaltone ma con il passare dei minuti l'idea del pareggio sembra sempre più appagante per entrambe le formazioni. La Propatria rialza un po' la testa senza riuscire ad andare oltre ad un paio di situazioni pericolose con un paio di mischie furibonde. Lo score consente così alla Propatria di agganciare l'Atrizium in vetta alla classifica a quota 42. La Provercelli è staccata di una sola lunghezza, il Lecco di tre. Il girone A di Lega Pro, seconda divisione, promette un finale di campionato avvincente senza contare poi gli innesti potenziali di savone canavese.